Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e finalmente siamo ritornati su Fire Soul, un gioco di merda per eccellenza però dovevo per forza giocare dopo un po' questo gioco. Proprio no, sono passato sicuramente un mese e mezzo circa, secondo me pure di più, niente, un po' la nostalgia chiama a volte, non ci posso fare niente. Questo è uno dei, forse il mio primo live commentary, perché come ho già detto in un video in inglese, quando facevo un video soltanto in inglese non potevo fare live commentary perché, che me lo fanno, cioè che cazzo devo dire in inglese? Ok, cerchiamo di fare qualche kill, mostriamo le nostre skill, facciamo figura di merda, no? Ah, sicuramente ritornerò anche a fare video su, ecco, benissimo, anche su RedCastableReload, sui server brasiliani e russi, poi vedrò di farli pure lì. Eh niente ragazzi, non è stato il giro, non ci posso fare niente. Penso alle ore passate su questo gioco, se veramente mi... oh cazzo, dai, una doppia non riesco a fare più ormai. Questa è proprio la mia prima partita dopo un sacco di tempo, no, proprio la prima in assoluto. Quindi... Fatemi sapere se volete provare questo gioco, potete trovarlo sui sim, si chiama RedCastableFasso. Eh niente, per chi già ci gioca e che mi segue da un sacco di tempo, fatemi sapere un po' cosa... cosa pensate quando vedete questo gioco. Quanti ricordi vengono in mente. Sto registrando un video dopo l'altro, quindi sono sempre tipo raffreddatissimo, non... Non ci fate caso, intanto voglio un... voglio... spessissimo. Popolo l'italiano... correttissimo. Che sto approfittando di un po' di tempo libero per registrare qualche video... Che era la mia prima doppia dopo un mese e mezzo, mi sento realizzato ora. Ok, allora... Andiamo a prendere quel dolce soldato. Ok. Ok, stiamo perdendo di un sacco e perderemo amaramente però. È primo horror, grandissimo. Poi magari se vorrete video anche su questo gioco potrei farne qualcuno. Però consigliatemi sempre voi, ovviamente. Ok, questa veloce partita è finita. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi. E ci vediamo in un prossimo video. Bella.